Serata di beneficenza, 300.000 euro sono stati donati a queste 16 associazioni che oggi premiamo del terzo settore, varie categorie, anche quest'anno si conferma l'impegno di Megamark. Sì, ahimè, le cose fatte bene generano altro bene, generano una partecipazione che di anno in anno aumenta, sono arrivate a 300 progetti presentati. È un bel lavoro anche selezionare, di questo ringrazio la Commissione che siamo tutti i santi anni, che hanno la pazienza di inquadrare i dettagli, perché i progetti devono essere portati a termine, non basta la presentazione, ma deve essere più bravo l'esecuzione, perché solo attraverso l'esecuzione e il supporto del nostro contributo si riesce ad alleviare qualche parte di questo mondo, che non sempre, come dire, porta tutti avanti, alcune famiglie restano indietro, alcuni aspetti restano indietro, noi li ascoltiamo e li portiamo avanti. Un bel traguardo, dieci anni poi, insomma, non sono uno scherzo? Beh sì, sono dieci anni perché di successi, di ottimi risultati, la Fondazione poi dà il bilancio ogni anno che presenta, in questo giorno lo presenteremo, è una rendicontazione millimetrica di ciò che sono gli introiti della Fondazione e di ciò che poi è la nostra uscita e stasera è un elemento crudo. Grazie.